Ragazzi, prima di lasciarvi al video di oggi, volevo ricordarvi che lunedì alle 13.30 uscirà un video assurdo, uno scherzo, ho fatto i miei genitori, potete capire da queste immagini di cosa si tratterà, quindi non mancate lunedì alle 13.30, mi raccomando. Ciao tutti ragazzi, questo è il tuo Jake's Warrior! Ah no, devo guardare la p***a! Ciao tutti ragazzi, questo è il tuo Jake's Warrior e benvenuti in questo nuovo video! Oggi siamo ritornati! Questa volta proprio mai termine fu più appropriato su GTA V. Bella questa macchina! E infatti potremmo stare solo chi c'è. La Vagas, la Wagner. Guarda che bella tuta che mi sono preso, frate! La Wagner, wow! Sì, compà, la Wagner. L'avetto indovina di colore, giallo. No, compagno, è la mia maglietta, non mi copiare. Era da tantissimo tempo che non portavamo GTA V, ragazzi. Io l'ho portato sul mio canale qualche giorno fa, andatela a vedere. Mi è uscito qualcosa dall'occhio. Forse muori, compà. Visto che è il ritorno, allora cambiamo anche il colore della macchina, purtroppo non c'è la nostra... Perché non ho la Wagner? È la Wagner la mia, tu che cazzo hai? La Proto, un pa'. Non la so, fra, credimi. Compa, la Proto non è molto eterosessuale, un pa' è elettrica. Ma non è vero, fa scusci motore. È elettrica la Proto, se non ricordo male, compà. Compa, la Proto? Io la avevo la professoressa di italiano che si chiamava Proto. Ah, incredibile, compà. Grazie per l'informazione, adesso probabilmente... Porco due, Arno. Non dormirò la notte su questa cosa. Vero, compà? Bene. Ma è altissima questa macchina. È big, è big alta. Corco due, oh, ma la mia non la tua, la tua fa chifo, come te. Minchia, non ce l'ho fatta. C'è visto, compà. Compa, certo, ma ce l'hai fatta. Ci sono i padri, e ora è una macchina, non ho capito. Perigotto della coppia. Porca madosca, è ora? Che ragazza fa, ragazza fa? Due, due, l'arrisco così. Madre dolorosa, ma ci entro? Non ci entro, Cristo, è ora? Ma vuoi entrare nel cerchio? Mi sono bloccato qua. Tra, io non so che dobbiamo fare, vuoi entrare nel copertone? Eh, sì. Ah, ma sei da copertura? Compa, mi sono bloccato nel faretto, ma si può... Maddio. Che faccio? Ciao, compà, bella. Ciao, compà, ti faccio compagnia. Aspetta, provo a fare un'altra cosa, però. Ah, che sei facendo un compà da capo? Compa, ho fatto un tuo faretto pure io. Ma, compà, sto faretto a sassi. Sai, compà, arriva nel caso. Ah! Guarda che esplodo. Stuka! Non hai palle per ammi aspettarmi. Stuka! Ma vabbè, ci sono due giri. Ah, due giri hai messo, compà, perché? Perché questo video deve arrivare... A dieci minuti. Ecco, esatto. E dobbiamo... Non scordiamo... Monetizzarlo. Bravo. Non scordiamoci delle becchie. Delle becchie, compà, vi, restando con te... Oggi ho detto, fa un cubo, qualcuno, che hai detto, nel... Qualculo? Qualculo? Poverissimo. Sei un dislessico di merda. Qualculo può venire. Sì, compà, lo so, che ci posso fare? No, 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 vatti la dislessica. Quindi è un siciliano, compà. Il tuo siciliano. Sei un ingerante capra. Io so so. Io so so. Ragazzi, ma se arriviamo a 30.000 like, facciamo un altro video di GTA V. Compa, se arriviamo a 30.000 mi piace, ti taglio il capezzolo come in Game of Thrones. E questo è un capezzolo. E quindi hai fatto uno spoiler di Cristo? È fatto uno spoiler di Cristo? Vabbè, me è della terza stagione, compà. Sono l'unico che è ancora alla terza stagione. Siamo alla settima. Ah, vabbè, quindi... Compa, mi è lo spoilerato. Tua madre è molto bella, compà! Ma perché non me la presenti? Ci vorrei fare un video insieme. E che mica ci faccia ancora? Compa, perché sono accolto a presto a te. Compa, è stata la violenza dell'unico. Compa, sei il solito fallito. Ma come si fa? Tuo padre è fallito, quel fannullone. Quel fannullone, compà. Mio padre non è fannullone. Non gli dire questa cosa e poi ci rimane male. Ma compà, lo so. Lo so che io gli voglio bene. Ragazzi, tra l'altro, non perdetevi il video di lunedì alle 13.30. Perché, Giampitech, correggimi se sbaglio. Cacchia nevoca. Questa volta proprio non mi sono contenuto. Sto più alto di tutto sono salito. E ora come minchia scena. Ma non si è entrato. Minchia, sto bestemmendo un sacco perché mi sembrassi che fosse entrato. Mi sembrassi che fossi entrato. Sì, compà, lascia stasso. C'è compà. Aspetta, no, piglia me va a coico. Perché già sto prendendo questa cassa. Mi sembrassi che fosse... Senza un po' di dignità sei, fai schifo. Ma ce l'hai fatta, figlio, vuoi lasciare in pace a mio padre? Scusa, Luigi. Oh, sto dicendo un'altra cosa. Luigi Per Giorgio. Lo sapevo che dicevi Luigi Per Giorgio, non fa... Non fa, mi viene sempre in mente. Ma la vorremmo raccontare la storia di Luigi Per Giorgio? Va bene, dai, raccontiamolo che forse ci esce il titolo. Allora, ragazzi, Luigi Per Giorgio era praticamente l'email che Murri si era creato per prendere la partner su YouTube. Siccome Murri era minorenne... Minchia, come lo stai spiegando bene, compà, dai che sei un feed d'italiano. Serviva l'email di un genitore, di un adulto. O di chi ne faceva? Le veci. Essendo Murri minorenne, ha creato l'email a suo padre chiamato Luigi Per Giorgio. Certo, perché mio padre aveva il solo scopo di... Di fare da sopravvisore. E' a distanza di anni, infatti, ancora oggi, mio padre mi servono i video. E ora, per concludere questo coso, questo momento, un bel rutto. Ma fichia, un pa' no, c'è bisogno. E invece c'è bisogno. Chi è che mi scriva? Ah, chi è che ti scriva? Un pa' sono gelosissimo. Com'è, mi sento tellway. Com'è, ma se prima, quando mi ascoltavo io il rap, mi dicevi... Oh, tu ho scuito il rap, un pa' ora sei diventato malato. Chi sono il rap? Questo è trap. E' infatti è trap, mi piace. Infatti è trap, perché va di moda e io seguo le mode. Dov'è la T20? T20, ma ci hanno sabotato la T20. Eccola! Com'è, non si può, non prenderà T20, veramente. Benvenuti ragazzi in questo nuovissimo video. Oggi siamo tornati con un video su GTA 5 online. Con la Facecam. Cosa significa questo morale? Significa che i colori sono molto belli. Ah, sì? Sì. Per quale motivo? Non mi spero non il prezzo di... Non mi spero non il prezzo di... Prezzo, compa, sei di trentino. Prezzo. Com'è, oggi mi sono preso la pasta con le tagliatelle dagli scampi. Wow. Fettuccina agli scampi. E' suona! Lo fa immancabile. Suoni sempre, ma vecchi. Figlio di puttana se riesco a vincere in questa gara nonostante i tuoi sudsotter fuggi. Figlio di pulla, oh. Questo non è cambiato quanto il puttana tua madre. Ti sei venuto, questo la fa... Le fettuccina agli scampi. Ma parla bene, Cristo! Sei un dislessico! Mi sono preso... Mi sono preso le fettuccine agli scampi. Ed era chi ne è, prezzemolo. Che schifo il prezzemolo, un po' di odio. Era piena di prezzemolo. Ti giuro, l'odio. Lo so che è sbagliato, però mi fa troppo schifo. Porco demonio. Tra l'altro è prezzemolo gelato San Montana. È prezzemolo gelato San Montana. Hai messo due giri in questa? Assolutamente yes. Bravo, fucking... Mi ricordo in che video. O forse con gli GTA, tipo, hai detto fucking... L'ho lasciato. No, frate, non si dice. Lascia troppo ridere. Sì, che è colorata questa mappa! Wow, ma aspetta. Sotto le scena just, spariamo su. Dio... Madonna! Non ti preoccupare che adesso arriva un autotreno dietro di te. Bella. Ciao Gucci, che è Valentina Rossi ma a chiamare. Dio... Mi chiamava, mi si è entrato sotto. Mi faccio stare a distrazione tutta la macchina. Minchia, adesso me ne vado, fra. Adesso ho la super concentrazione per... Compa, e me sport contro... E' qua, no. Compa, mi spegnerò la macchina. Minchia, compa, non lo sanno. No, compa, facendo hype. Ma hype che è compa? Basta, compa, e poi io non toglio, perché se no non mi vedi 10 minuti. Compa, siamo indegni. Sei veramente raccapricciato. Tanto ci sono due giri, fichi su camminga. Sto... Te l'ho detto, compa, vedi? Stai avendo dei problemi. Io ho fame e sonno. Al contempo stesso. Al contempo stesso, madonna, frati. Porco minchia. Qualcuno non ti ha insegnato l'italiano quando eri piccolo. Compa, qualcuno me lo voleva insegnare, ma ero io che non l'imparavo. Ti aspettavi che dicessi io non me lo insegnavo. Sì. Ma ha una ricca copertura di cacao? No, figli troia. Sì, ti pare che prendevo la tua corsia, pezzo di merda. Sei palle, piglia maspietta, va bene. Ma il mio pomeriggio, va bene. Che riti, cartina? Poi, è bella la vita. Oggi abbiamo fatto un bel video che uscirà lunedì alle 13.30. Vero? E io che ho fatto oggi? Oggi, compa, mi si è preso gli insulti. Ragazzi, veramente, si è preso troppi insulti, però non vi possiamo dire il riguardo cos'è. Vi possiamo dire solamente... Però alla fine mi hanno offerto il caffè, quindi vabbè. Esatto. Esatto. E quanti ci dà che significa riconciliazione. Porco due, fra. Sono orgoglioso di te quando dici queste cose. Perché? Perché è detta bene. Ma non hai capito? Io ormai mi stupisco quando tu parli in italiano. Forse non è chiaro. Caffè significa riconciliazione, ma compa, mi scappello a te. Amici. Ma nel frattempo ho vinto due gare su due. Ti vorrei dire che... Ti vorrei dire che va tutto bene. Ti vorrei... Compa, aspettami, perché se c'è troppo giallo nel tuo video mi ne tizzi. Aspetta che metto un po' di rosa. Correrò questo rischio. Ciao, quanto sei? Ma quanto l'ora è sta caro? Compa, diciamo... Quanto mai ha letto. Sì, compa, ti piacisse. Sì, compa, poi ho visto per io, dunca. Non fa forse muoio di subito. Eh, magari. Eh, grazie. Giuseppe, questa gare è molto bella. Ci vogliamo sempre bene, comunque. Sì, non fa. Ti amo. Porca motore. Ma chi vince, Luca? Ma ti mette il capo, capi, sopra? Sì, sbottevo per io. Ah, eccolo, ora. No, mannaggia, demonio, va. Minchia, un po' te, cacai, sei troppo super. Minchia, che fiori mie, no. Quindi, ragazzi, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace per il ritorno nelle gare su GTA V online. Ringrazio Jumpy Tech per aver rostato la partita. Aspetta, un po'. Devo fare un inno. Devo salutare questo video. Aspetta, un po'. Adios. Adios. A tudos. Adios. Ci vediamo al prossimo video. Adios. Adios. Adios.